soluzione della transizione energetica rinnovabile e abbiamo il dottor Andrea Pisano Head of Hydrogen Anasciati Viz, non lo so dire. Ok, si può presentare lei? Sì, sì. Ora le do il suo... ecco. Diciamo responsabile iniziative idrogeno. Lo volevo dire in inglese, volevo essere più international. Ok, allora questo è il mio secondo anno qui e sono lieto di essere qui. L'anno scorso ero partito con dei numeri, dei numeri sui progetti idrogeno in corso e voglio ripartire ancora da lì perché l'interesse intorno all'idrogeno continua a crescere e questo si traduce in una quantità e una capacità annunciata di progetti idrogeno decarbonizzato perché ricordiamo che oggi l'idrogeno si produce ma la gas naturale. come veniva detto, come stato detto in precedenza, una capacità di idrogeno decarbonizzato che solo nei primi due trimestri sono stati annunciati i progetti per una capacità equivalente a 20 milioni di tonnellate. In Italia ne consumiamo circa mezzo milione di tonnellate, in Europa circa 10, quindi una quantità enorme che si somma a tutti i progetti già annunciati per arrivare a un cumulato di 73 milioni di tonnellate per anno di progetti annunciati, di cui circa la metà in tre aree fondamentalmente, Australia, Stati Uniti e UK, paesi che sono esempio e vedremo anche successivamente sono molto avanti dal punto di vista dell'idrogeno. Una grossa fetta di questi progetti è relativa a idrogeno elettrolitico, per una capacità di elettrolisi di oltre 300 gigawatt, questi sono numeri spaventosi, ma altrettanto spaventoso e spaventosa è la percentuale di questi progetti che è attualmente in costruzione operativa, perché è solo l'un per cento. Quindi questo cosa significa? Come ho messo nell'immagine siamo tutti lì sulla linea di partenza, ma non partiamo. Questo perché? Perché il mercato è caratterizzato da un grosso livello di incertezza che significa rischio e quando c'è rischio si fa fatica a fare investimenti e ad avviare progettualità. Allora oggi siamo davanti a una sorta di grossa montagna, perché creare un mercato nuovo, soprattutto nel settore energetico, non è banale. C'è una grossa complessità che non deve spaventare, perché in realtà la complessità nasconde del valore, quindi bisogna solo avere la competenza per gestire questa complessità. Proviamo a vedere però come si costruisce un mercato, cercherò di essere rapido e toccare gli elementi fondamentali. Abbiamo dei buoni punti di partenza, perché oggi ci sono 27 paesi che hanno annunciato strategie sull'idrogeno. Ottimo punto, perché in passato si parlava di idrogeno, ma non c'erano dei veri commitment, dei veri target messi nero su bianco. Questa volta è differente, ci sono dei target quantitativi. E se andiamo sull'Europa, come vedete dalla cartina, quasi tutti i paesi hanno dato o linee guida o strategie idrogeno per un totale di capacità di elettrolisi di circa 40 gigawatt. Questo prima della comunicazione Repower EU, che ha ulteriormente rilanciato i target sull'idrogeno. Oggi parliamo di 10 milioni di tonnellate da produrre entro il 2030 in Europa e ulteriori 10 milioni di tonnellate da importare, di cui 4 sotto forma di ammoniaca. Quindi le varie strategie andranno riviste in quest'ottica. Abbiamo poi un secondo elemento fondamentale, e sono le opportunità di finanziamento. È stata recentemente annunciata la creazione della European Hydrogen Bank, che investirà circa 3 miliardi nello sviluppo della value chain dell'idrogeno. Ma se andiamo a vedere quanti strumenti ci sono al supporto dell'idrogeno, abbiamo un ammontare che è superi 200 miliardi di euro. Partiamo da strumenti come l'Innovation Fund, che mette a disposizione i ricavi dal sistema ETS, quindi dalle quote di CO2. Fino ai recovery fund nazionali, dove in Italia è stato stanziato più di 3 miliardi di euro, sono stati stanziati per l'idrogeno. E poi le due wave IPCEI, come è stato detto in precedenza, l'IPCEI high to tech e l'IPCEI high to use, che rappresentano un enibler fortissimo, perché aiutano non solo dal punto di vista dei CAPEX, ma anche degli OPEX i progetti. E questo non è banale, perché i progetti idrogeno sono OPEX intensive, quindi non è sufficiente coprire il CAPEX e l'investimento, ma c'è bisogno di qualcosa di più. Abbiamo questi due elementi, ne mancano tanti altri, ed è il motivo per cui c'è quel grado di incertezza. In particolare, mi soffermerò sull'ultimo, ma proviamo a scorrere velocemente insieme, un supply demand bilanciato. Questo significa avere un approccio di filiera. Non posso annunciare progetti di produzione se non ho un'effettiva domanda dall'altro lato. Quindi c'è bisogno di uno sviluppo congiunto per creare un mercato bilanciato. Un mercato bilanciato significa anche un mercato interconnesso, quindi ho bisogno di infrastrutture. E per sviluppare la domanda ho bisogno di un enorme sviluppo tecnologico, perché oggi esistono applicazioni esistenti per l'idrogeno, che sono la raffinazione e l'ammoniaca, se ne vedono tante altre. Per realizzarle ci sono barriere tecniche e barriere economiche, e quindi c'è bisogno di tanto sviluppo tecnologico, sia per renderle fattibili dal punto di vista tecnico, sia per abbattere i costi di investimento, garantendo la competitività dei settori industriali che vogliono utilizzare l'idrogeno. C'è poi bisogno di parlare un linguaggio comune. Quando si crea un nuovo mercato, questo aspetto non è banale. Bisogna sapere che quando si è allo stesso tavolo, si parla lo stesso linguaggio in termini di norme tecniche, di sicurezza, perché tutte le nuove applicazioni devono portarsi dietro anche questa tipologia di armonizzazione. E poi c'è il tema delle garanzie di origine. Oggi si parla tanto dei colori dell'idrogeno, che comunicativamente è molto efficace, perché ci aiuta un po' a capire i vari processi produttivi. Ma dovremmo fare un passaggio ulteriore adesso e stabilire una certificazione della molecola, perché io devo conoscere esattamente quando vado a vendere, a produrre, a vendere la molecola, il suo contenuto carbonico. Quindi quante emissioni si sta portando dietro quella molecola? E questo non me lo dice il colore, me lo dice un'analisi LCA, quindi life cycle, che mi va a risalire tutta la catena di produzione fino al cliente finale. E per ultimo, la fattibilità economica dei progetti. Questo è l'aspetto fondamentale, perché di fatto oggi non si parte perché i progetti non sono economicamente sostenibili. In particolare, gli analisti prevedono che il mercato di idrogeno necessiterà di enormi investimenti, si parla di 5 trillion al 2050, con una media di 55 fino a oltre 100 miliardi di dollari per anno. Quindi questi numeri fanno quasi paura, però c'è bisogno di introdurre un concetto, che è quello di bankability, la bancabilità dei progetti, perché poi è quello che si va a guardare quando si vuole realizzare qualcosa. E oggi abbiamo due ostacoli principali. Uno è che ci costa troppo produrre l'idrogeno. Costa troppo e quindi conseguentemente il prezzo diventa elevato. Due è che le positività associate all'utilizzo di un idrogeno decarbonizzato non vengono riconosciute dal mercato, così come non vengono riconosciute le negatività di un utilizzo di una fonte fossile. Però questi due aspetti portano a una sorta di slogan, che è close the gap. Dobbiamo chiudere il gap tra l'idrogeno decarbonizzato e le alternative fossili. Come si può fare? Con due leve fondamentalmente. Dall'altro agisco sulla riduzione dei costi di produzione, dall'altro creo delle polisi a supporto per far partire il mercato, così come è avvenuto per le rinnovabili in passato. Se andiamo a vedere sulla riduzione dei costi, ho diverse leve. Qui ho provato a raffrontare tre colori dal grigio al blu al green. Quindi lavorando sul grigio, l'esistente prodotto a gas naturale, posso aumentare il prezzo di riferimento con sistemi di carbon pricing e questo mi aiuta sicuramente. Dall'altra parte, devo considerare tutte le tecnologie produttive a mia disposizione, perché ne devo produrre tanto di idrogeno e quindi devo andare a guardare quanto effettivamente decarbonizza quell'idrogeno e quanto è economicamente sostenibile. Questi sono i principali parametri. Sull'idrogeno blu, quindi con cattura della CO2, prodotto da gas naturale con cattura della CO2, il gap di costo è molto più piccolo rispetto a un green, ad esempio, e posso agire sull'efficienza, sull'utilizzo di infrastrutture esistenti per ridurre ulteriormente questo gap. Sul green ho molto più leve da adottare perché c'è molta più strada da fare. Fondamentalmente il green hydrogen, il prezzo è dovuto al prezzo dell'elettricità per un 60-70% e il resto è il capex dell'elettrolizzatore. Posso agire su queste due leve. Sul capex, aumentare la capacità di manufacturing, quindi fare uno scale up di questa capacità mi consente di abbassare i costi, ridurre l'utilizzo di materie prime critiche come il platino, l'iridio e quindi abbattere i costi anche da quel punto di vista e aumentare l'efficienza e le ore di funzionamento di elettrolizzatori. In questo senso anche la regolazione aiuta perché in tema di full load hours, quindi di quante ore può funzionare il mio elettrolizzatore, in realtà sono regole che sono via via in definizione da parte dell'Europa. E per ultimo devo garantire un prezzo di elettricità che sia sostenibile, quindi basso e stabile. Questo mi può portare ad essere competitivo col grey hydrogen. L'altra leva di cui parlavo invece sono le polisi di supporto. Io quando inizio un progetto idrogeno, o anche solo immagino di farlo, vado incontro a due rischi fondamentalmente. Un rischio prezzo, perché è il rischio che i miei costi di produzione siano talmente elevati che nessuno mi riconosce il prezzo di cui ho bisogno per l'idrogeno. E un rischio volume. Rischio volume perché tendenzialmente oggi se faccio un impianto di produzione riesco a trovare uno, barra due clienti. Quindi se quei clienti non sono disponibili o hanno dei problemi a ritirare tutti i volumi, a quel punto io sono in una situazione critica come produttore. Come si fa ad affrontare questi due rischi? Beh, rifacendomi un po' a quello che dicevo prima, UK è un paese esempio da questo punto di vista. Perché oltre ad aver fatto una strategia idrogeno che contempla tutti i sistemi produttivi, quindi dal blu al green, copre questi due rischi. E lo fa sul tema rischio prezzo con il contract for difference. Quindi banalmente vado a coprire il gap tra i miei costi di produzione e le revenues che riesco ad ottenere dal mercato. E sul tema volume mi consente di aumentare, di recuperare di più, maggiormente i costi di produzione al decrescere dei volumi. Però se vado a zero con i volumi venduti a quel punto anche il mio strumento di supporto diventa zero. Quindi questo può rappresentare un esempio anche per l'Italia, assolutamente, soprattutto il contract for difference, perché serve appunto a dare certezza al mercato e a garantire quegli investimenti che oggi non si fanno. Concludo perché credo di essere arrivato. Ok. Strategia Eni, in due parole. Noi siamo i principali produttori e consumatori di idrogeno in Italia, lo produciamo da gas nelle raffinerie e nelle bioraffinerie. Il nostro principale scopo è decarbonizzare questi consumi perché sono un'importante quota di emissioni mondiali. Nel mondo sono 900 milioni di tonnellate dovuta alla produzione di idrogeno. Lo facciamo in sinergia con altre aree di business, con la CCUS per il blue hydrogen e con le rinnovabili, quindi con Plenitude per il green hydrogen, dove abbiamo ambiziosi target, sia in termini di CO2 stoccata, sia in termini di gigawatt installati, dove sarà destinato l'idrogeno. Puntiamo a produrre 4 milioni di tonnellate al 2050, destinato ai nostri consumi, ad art to abate, quindi industrie che non riescono a elettrificare, hanno bisogno di calore per generare elevate temperature, e poi mobilità. Quindi tutti quei settori dove effettivamente l'idrogeno può rappresentare una soluzione, magari non nell'immediato, magari nell'immediato ci sono altri strumenti come i biocarburanti, però nel medio e lungo termine sicuramente sì. Ultima slide, siamo attivi in Italia con diverse progettualità nei nostri siti, privilegiando i nostri siti, privilegiando i nostri consumi, uno di questi progetti a Taranto è anche uno dei più importanti su cui stiamo lavorando. Mi fermerei qui. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Grazie mille.